Ciao a tutti amici, sono Sara e bentornati in questo nuovissimo video in cui vi darò dei consigli su dei regali che potreste fare alle vostre amiche BFF, quello che volete. E questa qui sarà la parte 1 perché magari poi lo farò anche sui vostri amici maschi, familiari eccetera, se questa tipologia di video vi piace. Allora, il primo regalo che io farei a una mia amica molto cara è una cornice con le nostre foto. Quindi su Amazon ci sono cornici che non costano molto comunque e poi se abbiamo una foto insieme la porto a stampare e ce la infilo dentro. Molte volte su Amazon si trovano anche quelle cornici dove sulla cornice c'è scritto BFF, tipo cose così. E secondo me è un bel regalo. Un altro regalo molto carino, secondo me, potrebbe essere tipo dei prodotti, delle creme per le mani, per il corpo, tipo cose così, colorate. Perché secondo me possono piacere. Non costano tantissimo, all'OVS se ne trovano parecchie di vari tipi. Successivamente un altro regalo che a me è stato fatto e che io ho apprezzato tantissimo è un profumino. Cioè, non un profumo chissà quanto costa, è un profumino. Cioè, che però è molto particolare perché non sai poi se a quella persona può piacere. Comunque potrebbe essere un'idea. Successivamente un altro regalino che potrebbe molto piacere e che in alcuni casi, in alcuni negozi, non costa neanche tantissimo, è un braccialetto. Allora, secondo me i braccialetti possono piacere. Però non, cioè, secondo me non molto quelli d'oro, quelli d'argento, ma secondo me un po' più quelli colorati. Un'altra idea che, secondo me, si può sempre tenere in considerazione è la cancelleria. A molte persone, a molte ragazze, cioè, in quest'epoca, in questi anni, io conosco un sacco di persone a cui tengono molta cura alla cancelleria. Quindi, come qui nella foto, si potrebbe fare tipo un pacchettino così. Con evidenziatori, comunque, penne della BIC, che comunque non è che chissà quanto costano. Oppure, sempre un altro regalino che mi è stato fatto a me per Natale e che ho apprezzato veramente un botto, è un'agenda. Un'agenda, comunque, dove ci posso scrivere tutti i miei impegni e tutto quanto. Però, un'agenda, come appunto qui nella foto, comunque colorata e comunque viva. Viva, beh, io dico così per dire che è bella, colorata, capito? E niente, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Lasciate like o iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E niente, scrivetemi giù nei commenti se volete che ve lo faccio anche per amici maschi, familiari e cose così. Ciao!